Possiamo dire una partita superlativa, con la ciliegina a sua torta. Sì, sicuramente ho fatto una buona partita. Sono contento, ma non ho e non abbiamo tempo di risultare perché già la nostra mente è proiettata, però sicuramente sono contento della... Non è stato che sta assumendo anche molta solidità difensiva, l'arrivo anche di Cosenza ha dato maggiore sicurezze, ma nella partita di oggi anche i tuoi interventi, i tuoi decorali sono stati fondamentali. Che clima si respira nel reparto arretrato quando magari in partite come queste si va più a cercare il nome degli autori del gol? Sicuramente passiamo tanto tempo insieme per affinare le caratteristiche che abbiamo tra di noi, quindi cerchiamo sempre di aiutarci ogni partita e in ogni situazione. alle volte io ho bisogno di me e io gli do una mano, alle volte viceversa, come è successo con Sciacca e Dussena. Cristiano, un'esultanza che la dice tutta, soprattutto sul gol, che è stato proprio un'onda? Sicuramente portarci sul 2-0 dopo 8 minuti è un gran passo, diciamo, ti dà quella spinta in più per chiudere la partita. Quindi ero contento perché ho dato la possibilità alla squadra, comunque sia, dopo 8 minuti di avere un 50% abbondante di vittoria in Casca. Grazie. 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 Grazie.